come cod leaf si prendila anna maria ah, sto aspettando trappolina e Lash che non so dove sia ehm, hello? c'è un team contesta in noi ma che so morto non so morto ok nice gg boys gg boys aiuto ok dai ok, eccole qua le heavy il phoenix è ciò che mi serviva ho un peacekeeper io corro veloce a compere vengo vicino qua a casa che adesso Ivo si è svegliata aiuto aiuto ok, quindi Lash ci metterà un pochettino car coming non sai che ti dico, lo prendo io dai bello il prossimo anello è lontano diamoci una mossa amico questa scuola è in questa partita aiuto aiuto hanno posizionato un balone dietro dietro noi è probabilmente si, sono due ci sono due sono resti si, sono resti si, sono resti non c'è un po' Allora Se ipoteticamente Cambiassi da pad a coso Se puoi fallo Cioè da mouse e tastiera Da pad a mk no Rimani da pad Se posso dirti Non volevo spararli Ma l'ho fatto Comunque L'emlock è troppo forte vecchio Se hai il 3 per è fortissimo Io ho il 2 per Mi sto trovando bene Speriamo che si chiuda Abbiamo 5, 2, 3 Non so se c'è qualcuno Che si è già piazzato nascosto Da qualche parte 7,16 vuol dire che Mancano 5 persone Buona Abbiamo anche un pezzo di safe Qua Siamo tutti fuori dalla nenne Crack 50 flash Non solo Sto guardando la arm Oh no Sono qua con i random Come back come back Dinei Sì 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 Ok Perfetto Perché non te lo dice negativo Magari è negativissimo Ma quando mi dice come stai Non dici mai neutro Boss Tu mi hai detto neutro No Però D'ora in poi potrei iniziare a dirlo Anch'io neutro Ma dire neutro è brutto Uno devo dire che sta bene Così che la gente non ti chiede perché stai male Capito Ok qua non c'è nessuno Non sono soli I think I saw a solo With the white shield Like behind the other team Over there Puscia un'acqua Puscia un'acqua Puscia un'acqua Puscia un'acqua Puscia un'acqua Puoi giocare la low ground qui se volete Sì sì Ok 6 squad Dai adesso si chiude il cerchio Dovranno muoversi Puscia un'acqua 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 Vai quando vuoi ci vuole Aiuto Dwight psicologo Il super trappolina ragazzi Beh dimmi se sbaglio però avevo ragione ragazzi All free Trappolina ha sempre ragione Non ho granato Ok abbiamo vinto così Gigi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti